Una lite che in breve tempo si trasforma in una collutazione, addirittura colpi di bottiglia. Ancora un episodio di violenza nel quartiere di Saione ad Arezzo è successo domenica sera attorno alle 20.30. È stata gran confusione nella strada, tornando anche a casa che era verso le 8 ci siamo trovati in una situazione surreale con gente che correva a torso nudo per la via. Ho dovuto suonare il campanello a mio zio per farmi aprire di corsa perché non riuscivo a ritrovare le chiavi nella paura. Tra i momenti buttano in terra me e mia moglie che stanno cercando di rientrare in casa perché sono corsi di... Io ho chiamato il 113 non appena messo i piedi in casa perché è impaurito. La lite tra due uomini di nazionalità nigeriana si è accesa in via Piave ed è proseguita in via Montegrappa con colpi di bottiglia sferrati dai contendenti. I impauriti presenti hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati agenti della polizia di Stato e della polizia municipale. Questo quartiere ha bisogno di una presenza almeno alternata di 8 ore, due la polizia di Stato, due la polizia municipale, due i carabinieri, due la guardia di finanza che riescono a avere una presenza effettiva nel luogo onde evitare queste cose. Uno dei due uomini è stato arrestato e trasferito prima al Sandonato per le cure del caso.